Nel percorso istituzionale e di discussione di tutti gli atti, dopo che la Giunta delibera, aspetta il Consiglio regionale discutere e attraverso gli strumenti della Commissione dell'Aula affrontare nel merito le questioni specifiche. Nel caso del piano del paesaggio si sapeva bene, visto gli incontri e il lavoro fatto in questi mesi, che la discussione non sarebbe stata semplice. Ora vedremo nei prossimi giorni con gli avendamenti presentati nel merito le soluzioni da trovare. Noi si sta lavorando sulla base di quello che abbiamo anche già approvato nel luglio scorso e pensiamo anche coerentemente nel ruolo istituzionale e legislativo che abbiamo di poter dare il nostro contributo, cercando di migliorare quelle parti che pensiamo debbano essere migliorate, ma sostanzialmente nell'impianto delle scelte che la Giunta aveva già fatto nel luglio scorso. Per quello che ho potuto vedere l'agricoltura ha lavorato bene, continueremo a lavorare perché tutti gli strumenti che il Consiglio ha approvato e approverà da qui in poi, fino alla fine della legislatura, contribuiscono a generare sviluppo, compreso l'agricoltura, e mi sembra che le cose che ho potuto verificare vanno su questa direzione.